sono veramente preoccupato ragazzi qui l'ambiente romano si dice tranquillo sereno perché hanno fatto tutte le cose a dovere ma io da tifoso romanista mi sento veramente a disagio non so come andrà a finire questa storia delle plusvalenze di queste maledette plusvalenze adesso ci arriveremo sul discorso però credetemi non sono per niente tranquillo ve lo ripeto ancora intanto fatevi salutare ciao a tutti per chi non mi conoscesse mi chiamo enrico gaffarelli è un canale che tratta argomenti di calcio questo argomento purtroppo si tratta di cose sgradevoli che i tifosi giuventini conoscono molto bene se non ti sei iscritto a questo canale iscriviti mi farebbe molto piacere e lascia un like un mi piace per supportare questo video e per supportare specialmente a me che non sono per niente niente sereno ragazzi l'inchiesta è delle plusvalenze della maggiorazione delle plusvalenze non so adesso come come si chiama questa questa indagine non lo so io che ha coinvolto se non erro anche la juventus è arrivata a roma la guardia di finanza è entrata nelle sedi della lazio della roma e anche della salernitana per 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 perquisire per 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 prendere diciamo alcuni pc non lo so mail tablet e documenti per verificare se appunto ci siano le condizioni per incriminare penso perché e le società della roma e della lazio e della salernitana appunto con i loro presidenti e dirigenti che non andrò a nominare perché non mi sembra giusto nominarli anche se sono su qualsiasi sito web che voi andate a andrete a guardare ragazzi scusatemi se mi sento un po stranito di questa cosa però non mi piace per niente questa situazione oggi ho sentito le radio le radio romane si dicono dicono che nell'ambiente di trigoria perché io seguo ovviamente l'ambiente di trigoria stanno sereni e tranquilli perché hanno fatto tutte le cose giuste e come bisognava farle spero che nelle sedi opportune la roma verifichi anzi faccia valere la propria buona fede perché a me non andrebbe proprio giù che la roma avesse un'eventuale decurtazione di punti come è successo alla juventus e addirittura qui se i reati fossero ancora più gravi si parla addirittura di retrocessione ma non credo che sia il caso della roma almeno lo spero anche lo dito in casa lazio si dice molto tranquillo perché sono state fatte tutte a dovere le transazioni io però ragazzi non lo so perché queste plus valenze è da quando da quando che sento parlare mi hanno mi hanno stufato ve lo dico proprio sinceramente ogni volta che c'è una sessione di calcio mercato plus valenza la roma deve deve fare plus valenze per poter permettersi di comprare questo e inter e sassuolo hanno hanno effettuato transazioni di mercato e plus valenze per questo giocatore il juventus e plus valenza per mandracora e inter caprari e io quelle che mi ricordo io sto delirando lo so sto delirando però ogni volta c'è questa plus valenza di mezzo ma chi l'ha introdotta ma perché c'è questa qualcuno che conosce il mercato del calcio italiano perché ogni volta si deve si deve fare questa benedetta plus valenza ma non si può fare qualche altra qualche altra metodologia perché poi ovviamente vengono fuori delle delle confiature delle presunte presunte parliamo soltanto di presunzione qua eh non diamo la colpa a nessuno perché l'indagine è in corso e quindi non si sa ancora come andrà a finire però qui si parla di di quotazioni di gonfiate esagerate di 18 giocatori ragazzi 7 della Lazio e sono questo si può dire perché è scritto insomma sprocati casasola o casasola non so marino cicerelli novella morrone e akpa akpro mamma mia che nome io neanche li conosco questi neanche li conosco però si parla che i giocatori calciatori della Lazio in questione siano questi qui e poi 11 della Roma spinazzola infatti spinazzola me lo ricordo fu un caso eclatante perché allora venne eh venne preso in cambio di Pellegrini infatti è nominato anche Pellegrini il giocatore che adesso gioca con con la Lazio e fu pagato dalla dalla Juventus una cifra esorbitante quasi come Spinazzola però Spinazzola era un giocatore affermato e Pelle Luca Pellegrini era un calciatore della primavera quindi mi fece mi fece diciamo venire il dubbio questa operazione già al tempo che fu c'era Pallotta se non erro come presidente e anche Pallotta si dice tranquillo pure lui sta tranquillo se vedete le interviste fatte a James Pallotta oggi perché è stato tirato in questione anche lui si dice sereno tutti sereni poi gli altri giocatori erano Marchizza Frattesi Tuminello Defrel Cristante Cetin Cancellieri Diabì e Cumbulla cioè poi farsi incriminare per Cumbulla indagare anzi no incriminare scusate questa parola brutta indagare per Cumbulla ragazzi ce ne corre eh ce ne corre un calciatore così scandaloso addirittura farsi indagare per per queste per queste persone per questi personaggi non lo so ragazzi è una questione molto delicata una questione più grande di me sicuramente non non ci ho capito bene però vi dico che non sto tranquillo perché come hanno penalizzato la Juventus vedrete che l'inchiesta si allargerà a macchia d'olio verranno fuori altri altre squadre altre società non si fermerà qui vi ricordate Calciopoli Calciopoli iniziò tutto con con la Juventus ma poi dopo vennero fuori gli altarini gli scheletri nell'armadio e non vorrei che spero di no stiamo di fronte a un'ennesima Calciopoli due o tre perché non si sa quante quante ci siano state di Calciopoli perché ogni volta le squadre di calcio le società se ne inventano di tutti i colori per poter rimanere a galla perché troppi soldi girano intorno al calcio ragazzi troppi soldi e questa è una questione questa è una questione brutta questo termine vabbè tanto ho parlato male fino adesso figuriamoci se può determinare una frase questo mio post l'hanno rovinata secondo me gli sceicchi del Paris Saint Germain della Premier League di queste squadre che hanno a disposizione quantitativi esosi di danaro ne hanno a bizzeffe e quindi le società italiane e le società che sono in difficoltà alla fine si inventano qualsiasi cosa per poter iscriversi ai campionati alle competizioni europee fanno di tutto e di più certo ovviamente devono stare sempre nel lecito perché poi dopo se vengono fuori diciamo operazioni non non lecite la guardia di finanza le procure poi alla fine le scoprono spero che non sia questo il caso della Roma e anche della Lazio perché ho parecchi amici laziali però come abbiamo visto alla Juventus non hanno non hanno avuto pietà di nessuno la procura la magistratura ordinaria che li ha insomma indagati e c'è un precedimento in corso e anche la procura della FIGC non ha guardato in faccia nessuno speriamo che i casi della Roma siano minori e quindi magari non ci sia una penalizzazione come quella della Juventus però ragazzi ve lo risico ancora non sto per niente sereno scusate se sto delirando avrò detto sicuramente una marea di cavolate però ho paura ragazzi da tifoso romanista ho molta paura spero che sia vero quello che si dice che si dice oggi che nell'ambiente di Tricoria è tutto sereno non so come fanno a saperlo però magari sono sicuri delle loro operazioni ragazzi lasciate un like a questo video per supportare me come persone a Rico Caffarelli che sono molto un po' deviato no deviato un po' rincoglionito passatemi il termine di questa situazione ieri mi è stato proprio un paletto qua al cuore proprio pum ma che cosa sta succedendo davvero è successo questo non lo so ragazzi spero veramente che ne venga fuori la Roma positivamente ciao a tutti ragazzi iscrivetevi al canale ciao